Tra le diverse funzioni presenti all'interno del sistema esiste anche la funzione dello share. Questa funzione è molto utile perché vi permette in pochi click di condividere la scheda del candidato non solo con uno o più colleghi che hanno accesso al sistema, ma anche con altri membri interni o esterni alla vostra organizzazione. Il profilo viene condiviso via mail e chiunque lo riceve avrà la possibilità anche direttamente dal proprio smartphone di visualizzare molto velocemente tutte le informazioni del candidato e di lasciare un feedback. Il feedback sarà poi salvato automaticamente e rimarrà a vostra disposizione all'interno della scheda del candidato stesso.